Dio, che ha lo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli, Amen. Dio, che ha lo Spirito Santo, come è la proposta, come è la proposta, come è la proposta, come è la proposta, come è la proposta. Come è la proposta, 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 come O moj Gospodine, ne fa ne budi, o moj Gospodine, ne da sce budi, o moj Gospodine, osana tebi, o moj Gospodine. Da se vječe, svi vladne plodove, oni patru i drza rodove, za šumora i ti za pjevanje, ne da šume i snježne planine, ne fa ne budi. O moj Gospodine, ne fa ne budi, o moj Gospodine, ne da sce budi, o moj Gospodine, osana tebi, o moj Gospodine, vladno si. O moj Gospodine, vladno si, o moj Gospodine, vladno si, o moj Gospodine, vladno si. I sve l'une, di sreći, vozi, rieš, a rane budi. O moj Gospodine, te plame nudi, o moj Gospodine, te čaše nudi. O moj Gospodine, a zana tebi, o moj Gospodine, a ugrato si. O mio Signore, laudato si, o mio Signore, laudato si, o mio Signore.